Ma non ti preoccupi Non lo so scordata io Ciao a tutti Non ti asciugno? Dico da... oggi non ho una video recensione Da un giorno per schiarare? Ahi ci sono Dai 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 dai, come on Ciao amici, sono Chiara e benvenuti e benvenuti a PowerCoin's channel Oggi nuova video recensione nella quale io e Luca vi mostreremo gli ultimi arrivi di Casa Shit Hola a todos amigos, no è la hora di stare di nuovo acá con ustedes para grabare este video Noi le vamos a hablar in italiano e in español But don't worry, all our customers can find the English subtitles on the bottom of the video So go turn them on Oggi parleremo di 5 monete differenti Vanity, Little Secrets, Dream Edition, Veloci Raptor e Lizard Iniziamo dalla mia preferita, indovina qual è? Supongo che è Dream Edition Questa bellissima moneta d'argento da 5 once è l'edizione speciale della serie Exotic Butterflies Composta da 7 monete differenti dedicate ad alcune delle specie più belle di farfalle al mondo La moneta presenta uno speciale effetto 3D e la tecnologia Smart Minting Il rovescio raffigura il bellissimo volto di una donna sorridente con gli occhi socchiusi Circondato da incredibili farfalle 3D sopra i suoi capelli Il cofanetto è davvero elegante e presenta all'interno il certificato di autenticità Io la comprirei e tu? E la limita a 1750 piesase nel mondo E' impossibile non quererla Hai ragione, però che ne dici di qualcosa di più romantico? Little Secrets per esempio? Vale la pena averla Questa bellissima moneta d'argento da 2 once è dedicata ad un dipinto del famoso artista americano Bryce Cameron Liston Intitolato And Everything Nice La moneta presenta la tecnologia Smart Minting Ha un design meraviglioso, una bellissima colorazione E viene fornita in un cofanetto elegante e davvero particolare Insieme al certificato di autenticità La tiratura è limitata a 777 pezzi in tutto il mondo Lo so che anche un duro come te si solle davanti ad una moneta così carina e raffinata Però claro, si sabes che tambien sei un po' romantico, no? Però prefiero temas un poco más varoniles aquí, no? Como por ejemplo el Velociraptor o la Lizard Sabes che facciamo? Cierra los ojos e dirige una a la dos Questa Bueno, vamos a empezar con Velociraptor Esta hermosa moneta de plata de 3 onzas Es la primera entrega de la nueva serie Prehistoric Beasts Que representa algunas de las bestias más fascinantes del mondo En esta edición Velociraptor La moneda presenta tecnología Smart Meeting Tiene un maravilloso acabado de roca roja Y se entrega con el certificado de autenticidad Tirada limitada a 999 pezzi nel mundo Il tuo entusiasmo lascia intendere che ti piacciono parecchio i dinosauri E che mi dici dei rettili? También, también, los amo Io in realtà preferisco i mammiferi Però devo dire che il Lizard mi ha aiutato moltissimo ad apprezzarli un po' di più Questa bellissima moneta d'argento infatti E di seguirci su tutti i nostri social networks See you next Friday And remember, collect, invest, enjoy Bye 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 Grazie a tutti